signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale nel corso di questa stagione ci siamo andati a concentrare sull'esplorazione sia che si parlasse di mappa sandbox esplorazione nel mondo di gioco sia che si parlasse di dungeon mega dungeon e quindi di avventure che abbiano come tema l'esplorazione e in tutti questi casi ho sempre parlato di descrizione nell'ambiente di gioco prima di chiudere la stagione voglio quindi dedicare un video proprio a questo argomento in realtà non tanto alla descrizione del mondo di gioco ma all'estetica del mondo di gioco e come questa in realtà sia estremamente importante per rendere la vostra quest la vostra campagna sia particolarmente caratteristica che anche memorabile per i giocatori quindi non perdiamo altro tempo il titolo del video l'avete visto questo argomento ha un suo nome tecnico che è dungeon dressing e in questo video andremo a vedere che cos'è come viene definito come usarlo e perché è così importante non è la prima volta che mi capita di dirlo ma dare un nome tecnico alle cose è importante perché ci permette di renderlo un concetto all'interno della mente e quindi usarlo in maniera attiva per andare ad analizzare il lavoro che facciamo nella creazione di una quest apparentemente l'idea di descrivere l'ambiente di gioco sembra ovvia il master dovrà dire ai giocatori dove sono i loro personaggi se no questi non potranno dire cosa fanno i personaggi e le descrizioni dovranno ovviamente essere coerenti tra i loro se all'inizio della sessione viene detto che i giocatori sono in un cunicolo sotterraneo di pietra a meno che durante la sessione non se ne vadano da qualche altra parte tutti gli ambienti descritti dovranno essere compatibili con un cunicolo sotterraneo di pietra ma quando si va a parlare di dungeon dressing in realtà si fa riferimento a un concetto più ampio se vogliamo a dare a dare una definizione il dungeon dressing e l'insieme di tutti quei fattori estetici che rendono un particolare mondo di gioco definito e distinguibile per i giocatori non stiamo quindi parlando semplicemente di cosa il master dica che i personaggi e i giocatori stanno vedendo ma dell'insieme di tutti quegli elementi che permettono ai giocatori di farsi un'immagine precisa e distinta di quello che è lo specifico ambiente di gioco per quella quest e che lo renda distinto da qualsiasi altra esperienza di gioco per rendere tutto più chiaro facciamo un esempio con una classica situazione di gioco i personaggi sono entrati in un nuovo ambiente e il master deve descriverlo in modo che i giocatori sappiano con che cosa possono interagire con che cosa dove possono orientarsi il corridoio termina in una stanza più ampia il pavimento di pietra è usurato dal tempo e alcune mattonelle sono andate in frantumi e lungo le pareti nei mattoni ci sono gli incavi per delle torce che rendono vuoti e arrugginiti lungo la parete alla vostra destra sono accatastate delle casse palesemente ammuffite dall'umidità e un tavolo alchemico su cui poggia un grosso libero impolverato sulla cui copertina una runa bizzarra emette un bagliore fluorescente nel buio sulla parete la vostra destra una porta di legno è chiusa da un grosso chiavistello fermato a un lucchetto mentre di fronte a voi si apre un altro corridoio da cui emerge una creatura grottesca piena di tentacoli il rumore che avete fatto entrando deve averla disturbata e ora si muove verso di voi con un'espressione famerica questa è una situazione estremamente classica dell'esplorazione di un dungeon i giocatori sono entrati in una nuova stanza alla loro sinistra c'è qualcosa che devono esplorare probabilmente un potenziale tesoro alla loro destra una stanza chiusa ma il master focalizza l'attenzione sul fatto che davanti a loro è arrivato un mostro e sta per iniziare il combattimento quasi sicuramente nel corso della vostra carriera come master vi sarà capitato di fare delle descrizioni come questa magari non esattamente questa stanza ma qualcosa di estremamente simile quindi andiamo a vedere una possibile alternativa il corridoio termina in una stanza più ampia il pavimento di griglia metallica è arrugginito e dalle pareti di cemento prendono quello che resta di una serie di tubi al neon ora in frantumi lungo la parete alla vostra sinistra una serie di banchi da lavoro sono integrati nella struttura del muro con una serie di tubi e cavi elettrici e sopra uno di essi c'è uno strano congegno che sembra ancora essere attivo perché una serie di led manda un bagliore fluorescente nel buio della stanza sulla parete alla vostra destra un portello magnetico il cui pannello di controllo illuminato di rosso per indicare che il sigillo è attivo mentre di fondo tra voi si apre un corridoio da cui emerge una grottesca creatura piena di tentacoli il rumore che avete fatto entrando deve averla disturbata e ora si muove verso di voi con un'espressione famelica questa è ovviamente la stessa identica situazione della descrizione precedente qualcosa da esplorare sulla sinistra una porta sulla destra è un mostro che sta per dare inizio uno scontro di fronte al party la situazione di gioco che viene descritta in entrambi i casi è virtualmente equivalente e partendo dal presupposto che entrambe le scene vengano giocate con lo stesso regolamento o con regolamenti dal funzionamento molto simile probabilmente anche l'esito della scena sarà uguale prima i giocatori sconfiggeranno il mostro poi indagheranno su quello che c'è a loro sinistra alla fine dovranno decidere se proseguire dal corridoio dritto o provare ad aprire la porta sulla destra la descrizione che ne ha fatto il master però è molto cambiata nel primo caso infatti si tratta palesemente di un'ambientazione pensata per il fantasy con rune magiche e corridoi sotterranei in cui il senso d'abbandono è dato dalle descrizioni di muffa e di polvere nel secondo invece abbiamo un ambiente già più contemporaneo magari fantascientifico in cui gli stessi elementi sono congegni guasti e ruggine questo è probabilmente l'esempio più basilare che si può fare i dungeon dressing cambiando semplicemente le parole con cui l'ambiente di gioco viene descritto il master ha spostato la stessa identica scena nella stessa identica stanza da un genere a un altro in questo caso volutamente fatto un esempio estremo cambiando però il modo in cui l'ambiente viene descritto si possono fare variazioni anche molto più sottili ne avevamo parlato nel video del nega dungeon ve lo lascio qua su se dovete andarlo a recuperare lo stesso dungeon descritto con toni diversi può portare a un'esperienza di gioco molto più specifica da un fantasy horror a un fantasy eroico ma per quanto la descrizione che il master fa di un ambiente sia un elemento ubiquo in qualsiasi forma di gioco di ruolo o almeno il gioco di ruolo tradizionale osr non è l'unico elemento su cui va a far leva il dungeon dressing io per esempio avrei potuto descrivere la scena iniziale semplicemente in questo modo il corridoio termina una stanza più ampia il pavimento di pietra è usurato al tempo e alcune mattonelle sono andate in frantumi e lungo le pareti i mattoni ci sono gli incavi per delle torce che pendono vuoti e arrugginiti è esattamente la descrizione della prima stanza solo che l'elemento di gioco che è stato cambiato è quello visivo a cui probabilmente quando avete sentito per la prima volta la descrizione non avete neanche fatto caso perché voi siete già abituati all'estetica del canale del master care questo è un ulteriore esempio di come l'estetica con cui viene rappresentato il mondo di gioco per i giocatori si estende a ogni livello del materiale che viene fornito loro il dungeon dressing è proprio l'elemento a cui dovete andare a pensare ogni volta che fornite qualche tipo di materiale che descrive la vostra campagna la vostra quest il vostro intero mondo di gioco perché è quello che andrà a influenzare come i giocatori percepiscono l'ambiente che è intorno ai loro personaggi è inutile che vi sforziate di descrivere il vostro mondo di gioco come un ambiente cupo e terrificante se poi le mappe che date ai giocatori e le pedine che usate quando giocate sono di colori accesi e brillanti e questo non solo stonerà e probabilmente i giocatori si carano in testa un'idea sbagliata di quello che voi pensate essere il vostro mondo ma dando loro due informazioni fondamentalmente contrastanti tra i loro rischierete anche di mandarli in confusione e quindi ottenere che loro non abbiano alcuna immagine mentale coerente del mondo di gioco se ne volete un esempio più pratico e professionistico andate a vedere le illustrazioni e l'impaginazione di molti manuali usr rispetto a manuali di giochi più tradizionali i manuali dell'osr cercano sempre di mantenere un'estetica sia nell'impaginazione sia nelle illustrazioni molto simile a quelli dei manuali degli anni 70 80 nonostante siano pubblicazioni contemporanee uscite assieme a giochi moderni che invece però hanno un'estetica molto diversa e molto più affine a quella che noi abbiamo nella vita quotidiana ponete quindi sempre estrema attenzione a tutto il materiale che fornite ai giocatori non solo ai descrizioni ma anche alle plance alle pedine che usate il gioco o allo specifico tileset che utilizzate se giocate in telepresenza e quindi avete un tavolo da gioco con una mappa virtualizzata o se dovete fare delle grafiche per un canale di youtube una cosa estremamente influente è la musica se utilizzate la musica durante le vostre sessioni deve essere qualcosa che vada in tema con quello che state giocando tutti apprezzano la colonna sonora del signore degli anelli ma se in quel momento avete portato al tavolo qualcosa di cyberpunk sicuramente rovina l'atmosfera anche elementi minori non strettamente legati al gioco potrebbero influire l'illuminazione di una stanza in cui giocate potrebbe essere un elemento determinante se la vostra avventura horror sia effettivamente spaventosa per i giocatori o semplicemente si trasformerà in un action potrei andare avanti a fare esempi di materiale multimediale che può essere fornito ai giocatori ma credo che oramai il discorso sia chiaro e non ha senso perdere ulteriormente tempo tutto quello che fornirete ai giocatori influenzerà il modo in cui vedranno il vostro mondo di gioco e quindi voi come master dovete riflettere bene su quali sono tutti questi elementi che fornite in modo da dare loro la visione del mondo di gioco più simile a quella che è la vostra idea estetica per quel mondo diciamo quindi che per questo video è tutto l'elemento che volevo chiarire l'ho chiarito oramai siamo nella fase finale di questa stagione del canale io sto già cominciando a progettare materiale per l'anno prossimo anche se manca ancora qualche settimana comunque adesso la parola sta a voi scrivetemi qua sotto nei commenti qual è il vostro dungeon dressing e quali sono gli elementi che utilizzate per fornirlo ai giocatori o se non lo fate perché non lo fate e perché non ritenete importante di farlo come sempre se avete domande dubbi e perplessità scrivete anche quelli nella sezione dei commenti qui sotto se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che avuta crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate i link al server di disco del gruppo telegram dove si riunisce anche il resto della community del master cae io sono il master cae e noi ci vediamo nel prossimo video